mentre gli altri coinquilini sono già a letto. Alex e Soleil ne approfittano per passare un po' di tempo da soli in sauna. L'attore ripensa a quanto fatto da Delia. Dopo il ritorno di sua moglie nella casa del grande fratello, pensava di essere stato chiaro con lei, ma ad oggi non riesce a comprendere perché, dopo tutto, lei abbia sentito ancora la necessità di esprimere il suo punto di vista sui social. Alex, a questo punto, ammette che preferirebbe che Delia evitasse di seguirlo in questa sua esperienza e commenta «Non mi guardare più», quasi come volesse fare un appello a sua moglie. Soleil, d'altra parte, invita il VIP a mettersi nei suoi panni. Ma lui ripensa a quanto detto da sua moglie nel momento in cui le aveva riferito che ci sarebbe stato anche un bacio nella recita della Turandò. «Non mi torna coerente il tutto», dice Soleil che, ancora una volta, dice di avere molti dubbi vedendo gli atteggiamenti contrastanti che la donna ha assunto e sperava che, nel loro incontro, spendesse parole più incoraggianti e più chiare nei confronti del suo compagno a distanza. «Ciò che ti ho detto ieri notte le darà fastidio», confessa Alex, riferendosi al fatto che, sicuramente, dopo essersi dichiarato all'influencer, sua moglie potrà avere una reazione differente dalle precedenti e, in quel caso, sarebbe comprensibile. I due, dopo tutto, iniziano a parlare del loro rapporto e del fatto che, sebbene abbiano cercato in tutti i modi di mantenere un rapporto d'amicizia, tra loro le cose sono andate oltre. «La cosa che mi manda fuori di testa è non avere il controllo, ammette l'attore che sembra essere infastidito dal fatto che, stando nella casa, non può confrontarsi con la moglie». Come reagirà Delia a tutto questo?